L'incidente nella serata è il giovedì 6 gennaio intorno alle 19 sulla pedemontana all'altezza del comune di Strambinello poco prima dello svincolo. Una Toyota Yaris è uscita di strada definita nel fosso che costeggia la carreggiata a ridosso del muraglione di contenimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brea, la Croce Rossa e i carabinieri di Castellamonte. Il conducente, subito a soccorso dopo le prime cure, è stato trasportato all'ospedale di Brea. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura ad alimentazione ibrida. La viabilità è stata ristretta a senso unico alternato durante le operazioni di soccorso. La dinamica del sinistro è il valio dei carabinieri. Grazie a tutti.